buongiorno oggi andremo a vedere come fare il cambio delle immagini associati ad una lampa quindi andremo a definire una variabile bit andremo a mettere un pulsante il quale farà il toggle e andremo a definire delle immagini per lo stato di off e per lo stato di on chiaramente alla lampa dovrà essere associato il bit che abbiamo definito prima se lo mandiamo in simulazione riusciremo a fare il toggle